Allora, buongiorno ragazzi, oggi è il 29 marzo 2021, adesso vi faccio vedere un video, oggi facciamo un video, diciamo, andando sulla collatina, però vi faccio vedere la strada com'è, questa è la bici, ora c'è la gipsy, 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 eccola, allora, guarda che roba, allora, andiamo con il tempo, non si scarga, allora, pronti? Punti, pria, 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 prie, con calcio alla salita, Vedete? Mi ce la dai da un po', eh? Mi ce la dai? Vedai! ok va qui c'è la musica tutto eh Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.